ed ecco con un altro video io sono Issam e questa è la bicicletta elettrica più potente da 250 watt di motore che abbiamo mai provato sul canale iscriviti al nostro canale da Engui L20 si contraddistingue con tre cose rispetto alle altre Engui che abbiamo provato sul canale e sono tre cose che mi piacciono tantissimo in questa bicicletta la prima cosa è la legalità perché abbiamo un motore da 250 watt come da normativa però questo motore viene alimentato da questa batteria potentissima con una capacità di 13 amperora da 48,1 volt che le danno una potenza e una spinta in salita molto simile alle altre biciclette da 500 watt che abbiamo visto sul canale adesso vediamo la vostra nella solita salita della Engui L20 soltanto con l'acceleratore come vedi non sto pedalando siamo a 27 28 km all'ora 29 30 km all'ora tende a 27 26 km all'ora nel punto più ripido della salita adesso a 25 km all'ora direi che è ottima la velocità nella solita salita soltanto con l'acceleratore questo motore nonostante dichiarato da 250 watt come vedi ha un'ottima coppia spinta in salita tra l'altro ho notato una volta superati i 40 km all'ora la bicicletta non è che non abbia potenza per andare oltre ma il motore si spegne totalmente quindi abbiamo un limite che non riguarda la potenza del motore che è stato impostato dalla fabbrica 40 km all'ora adesso proviamo la velocità nella solita salita però solamente con la pedalata assistita ho messo con il rapporto più più piccolo così da aiutarla un pochino poco 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 senza far fatica solamente appoggiando il piede sopra in questo momento siamo a 29 28 km all'ora non sento niente ancora non la sto aiutando perché comunque anche se pedalo a meno che non pedalo così pedalo a vuoto adesso inizio qua nel punto più ripido a diciamo riuscire a sentire un pochino che sto aiutando sto pedalando a vuoto siamo a 25 km all'ora costanti senza fatica ottimo per per qualsiasi salita secondo me anche se dichiarano 250 watt mi fa un po ridere perché non sento la differenza tra 250 watt e 350 500 watt tranne se cambia la batteria il che è corretto dal punto di vista elettromeccanico infatti entro certi range la batteria ha molto più effetto sulla potenza che può esprimere un motore rispetto alla potenza nominale del motore stesso la seconda cosa molto interessante è l'autonomia infatti la combinazione motore batteria le danno un'autonomia massima dichiarata di 140 km provata senza pedalare quindi solo con l'acceleratore riesce a fare 70 km adesso qualcuno dirà issam però l'acceleratore non sarebbe a norma infatti questa bicicletta arriva con l'acceleratore bloccato è come se non esistesse naturalmente alla fine di questo video ti farò vedere come sbloccare l'acceleratore eventualmente da utilizzare in zone dove è consentito utilizzarlo o in altri paesi un po più avanzati del nostro che limitano la velocità 25 km all'ora senza acceleratore infatti la bicicletta arriva anche limitata a 25 km all'ora e lo stesso alla fine di questo video ti farò vedere come sbloccare la velocità fino a 40 km all'ora o ribloccarlo cambiare il limite di velocità a seconda della zona della legislazione dove stai utilizzando questa bicicletta la terza cosa che è una delle più importanti è la comodità perché come vedi è molto facile salirci sopra e tutto questo con una stabilità incredibile sul rettilineo e anche in curva dico incredibile perché non è per niente scontato con telai simili infatti il telaio è molto rigido nonostante la sua forma e probabilmente questo ponte aiuta moltissimo in questo mi piace tantissimo anche la stabilità della bicicletta molto stabile ovviamente è una bicicletta fatma ero curioso di provare questo frame così perché di solito hanno una sensazione di stabilità minore rispetto ai frame quelli con l'asta centrale ma devo dire che questo rinforzo qua sotto rigidisce tantissimo la bicicletta cambiando la sensazione tipica di biciclette con telaio del genere come vedi questa bicicletta provvista anche di un portapacchi che riesce a sopportare fino a 25 chili ed un cestino davanti che supporta fino a 13 chili la ngl 20 provvista di una forcella b ammortizzata bloccabile o sbloccabile ma si può anche aumentare o diminuire il precarico per regolare il ritorno dell'ammortizzatore e nonostante che non abbia nessun ammortizzatore dietro comunque molto comoda sia perché abbiamo le ruote da 20 pollici per 4 ma è molto comodo anche se lino super imbottito e ammortizzato che come vedi si può aprire e chiudere questo per permetterci di togliere la batteria che si blocca o si sblocca tramite le chiavi in dotazione per poterla caricare o direttamente sulla bicicletta o anche a parte la chiave permette anche di scollegare totalmente la batteria quindi adesso per esempio posso togliere la chiave la batteria è bloccata la bicicletta non si accende finché non metto la chiave e la giro su una volta messa la chiave su non si può togliere questo per evitare di perdere la chiave mentre stiamo andando una volta che abbiamo finito possiamo togliere la chiave lasciando la batteria bloccata e la bicicletta spenta il caricabatterie in dotazione da 54,6 volt 2 ampere con connettore dc 5.5 2.1 e 13 ampere ora che la capacità della batteria diviso due sono circa sei ore e mezzo che ci mette a ricaricare da zero la batteria tutti questi vantaggi purtroppo arrivano con un compromesso ovvero il peso perché questa bicicletta pesa con la mia bilancia 34,5 chili che non sono pochi non è pieghevole quindi non è facile da trasportare è una bici che devi prendere fondamentalmente per trasportare te quindi c'è da tenere in considerazione questo d'altra parte questa bicicletta riesce a sopportare un carico massimo di 120 kg lengue l 20 a un cambio a sette rapporti con sette pignoni dietro e una corona davanti abbiamo un freno meccanico a disco davanti e dietro con un ottimo comportamento sia quando rallenti ma anche con la frenata improvvisa ok siamo discesa a 45 chilometri all'ora vediamo i freni come sono fantastici anche se sono freni a disco meccanici ma funzionano molto bene adesso vediamo la frenata quanto decisa qui c'è un po di ghiaia quindi ok molto decisa molto stabile anche in frenata mi piace tantissimo le leve del freno sia come forma come morbidezza e anche come comodità con questo pezzo di gomma antiscivolo d'altra parte queste leve del freno mancano di regolazione del freno quindi la regolazione ce l'abbiamo soltanto qui sotto dove ci sono le pinze sul lato sinistro del manubrio abbiamo un piccolo campanellino abbiamo il display multifunzione con il tasto di accensione spegnimento dalla parte superiore sul lato inferiore abbiamo due tasti più e meno e riguarda in esclusiva la pedalata assistita non riguarda l'acceleratore che indipendente e quando siamo a zero possiamo utilizzare la bicicletta solamente muscolare senza l'ausilio del motore se tieni premuto il tasto più si accendono e si spengono le luci abbiamo una luce a led anteriore molto potente con un catarifrangente sotto e una luce posteriore a led che si accende e si spegne assieme alla luce anteriore ma anche una luce a led indipendente per lo stop quando premi la leva del freno abbiamo anche il supporto con delle viti per un eventuale porta borraccia il portapacchi posteriore è dotato di filetti eventualmente se volessi mettere un sellino per bambini il sellino è di altezza regolabile mentre il manubrio non lo è d'altra parte abbiamo la possibilità di avvicinare e allontanare il manubrio da noi per adattare la sua distanza a seconda della nostra altezza questo aggiunge tanta comodità lengue l 20 arriva con un po di attrezzature per montare la ruota anteriore che arriva smontata per regolare ovviamente i freni eventualmente se ne hai bisogno il manuale di istruzioni che arriva con la bicicletta in lingua inglese spiegato molto bene ci sono tutte le istruzioni con le figure per il montaggio mi piace tantissimo ci sono evoluti tantissimo anche dall'ultimo manuale di istruzioni del quale ho parlato nella stessa maniera di cui sto parlando di questo abbiamo anche il manuale di istruzioni del display multifunzione integrato all'interno di questo manuale con tutti i significati le funzioni del menu segreto una cosa che mi piace tantissimo nelle engui e che il limite di velocità per la pedalata assistita è indipendente dall'acceleratore infatti in questo momento sono con il limite di velocità di pedalata assistita 1 sto accelerando al massimo con l'acceleratore vediamo quant'è la velocità massima della engui l 20 in questo momento sono a 35 37 38 40 con il gps e anche con l'acceleratore 39 40 40 costanti come vedi il tachimetro di bordo corrisponde al cento per cento con la velocità misurata col gps al chilometro per quanto riguarda invece i limiti di velocità impostabili da 1 a 5 con il display multifunzione in questo momento sono col limite di velocità 1 e siamo a 8 chilometri all'ora mettiamo limite 2 vediamo quanto arriva a 13 14 chilometri all'ora e ti faccio notare quanto spinge quando passo da una velocità all'altra tant'è che devo tenere il il manubrio perché la bicicletta molto potente dichiarata 250 watt ma con la batteria di bordo che abbiamo li da tanta potenza al motore ecco con il limite di velocità 3 arriviamo a 22 chilometri all'ora naturalmente questa bicicletta è sbloccata in questo momento altrimenti con il limite di velocità 5 arrivi al massimo a 25 chilometri all'ora e anche l'acceleratore disattivato e questo per essere conforme alla normativa il limite di velocità 4 arriva a 30 chilometri all'ora e se è imposto al limite di velocità a 5 con la pedalata assistita arriviamo addirittura a 40 chilometri all'ora come vedi adesso accelero e la bicicletta inizia ad andare arrivare a 42 chilometri all'ora e questo perché ho sbloccato l'acceleratore e aumentato la velocità massima a 40 chilometri all'ora per limitare la velocità della bicicletta a 25 chilometri all'ora come quando arriva dalla fabbrica basta tenere premuti il pulsante più e meno insieme una volta entrati nel menu si possono scorrere i vari menu tramite il tasto più e meno andiamo sul menu p3 come vedi l'ho impostato a 50 chilometri all'ora basta cliccare il bottone qua rilimitare la velocità a 25 chilometri all'ora e come vedi adesso quando imposto il limite di velocità a 5 e accelero la bicicletta arriva al massimo a 25 chilometri all'ora e se volessi disabilitare o riabilitare l'acceleratore la procedura è uguale basta spegnere il display multifunzione schiaccio la leva del freno accelero al massimo con l'acceleratore tengo tutte e due in questo modo mentre sto accendendo il display multifunzione una volta acceso tengo tutte e due per 10 secondi una volta fatto come vedi se accelero con l'acceleratore il motore non funziona quindi è disabilitato e la bicicletta funziona solo a pedalata assistita e soltanto fino a 25 chilometri all'ora naturalmente per biciclette pesanti così non abbiamo un sensore di coppia abbiamo un sensore di pedala che peraltro come vedi funziona molto bene cosa assolutamente necessaria perché con questo peso se avessimo avuto un sensore di coppia ci sarebbe da sudare tanto per portare in giro una bicicletta del genere per quanto riguarda l'impermeabilità lengui l 20 e ip 54 quindi è resistente a una leggera pioggia puoi viaggiare tranquillamente non puoi lasciarla sotto la pioggia e non si può immergere purtroppo ho solamente il colore bianco da farti vedere di questa bicicletta perché ci sono altri colori sono bellissimi i colori disponibili sono tanti però come un gelato alla fine potrai scegliere tre gusti in questo caso purtroppo solamente uno io di solito ritorno a scegliere sempre gli stessi gusti di gelato quindi scegli bene il colore e come al solito ti lascio il link e coupon sconto a questa meravigliosa bicicletta nella descrizione del video se hai delle domande lascia raggiungo lo spazio commenti nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima